È il momento di parlare di cucina, di cose buone. Quando parliamo di cucina ci colleghiamo con le cucine segrete del ristorante La Pergola di Roma. Buongiorno Chef Heinz Beck! 1, 2, poliziai, 3, 4, grenadier, 5, 6, salte kek, 7, 8, buona notte! Ja, ja, ja! La lasagna ecco qua! Ja, ja, ja! Cazzeruola dove sta? 1, 2, 1, 2, avanti con lasagna, schnell! Brause! Chef, siamo noi del QPP, non spari! Ah, buon giorno amici, bello bacio bacioli! Non avete paura, tanto siamo a telefono e purtroppo non posso prendervi, scheisse! Ma scusi Chef, perché se era qui ci sparava davvero? Eh no, eh! Ja, volk! Io vi sparavo in mezzo alle palle! Ma voleva dire in mezzo alle palle degli occhi? No! Proprio in mezzo alle palle? Dove stanno le palle? Senta Chef, facciamo una tregua, che piatto ci insegna oggi? Oggi vi dirò come fare una bella lasagna di forno! Ah, sai che una cosa del genere l'abbiamo mangiata alla festa di a QPP? Ecco, spero non sia uguale perché era mattone compresso e mi ha fatto tappa! E invece è proprio quella! Scusi Chef, ma lei come lo prepara la lasagna? Come la prepara? Io prendo pasta frolla di mia amica di Germania Carpentiera! Poi faccio diversi strati con cemento armato al gusto di pomidone e mozzarella di catrambo! Poi io cucino in forno per... Hai una minuta! Hai una minuta? Ma come fa? Scusi! Come fa? Eh! Facile, caro Pippone! Tu apri in forno e infilare! Dopo apri in forno e infilare! No, scusi eh! No, Chef Pippo intendeva dire perché è così poco tempo per la cultura! Perché la lasagna entra in bocca mole e mole come panna cotta, ma come arriva il stomaco... ...divente mattone, dure come marmo di Carrara! Guardi, tanto io dopo questa esperienza non toccherò mai più una lasagna! Ci manda una foto del suo piatto che la tagliamo sul profilo di Accupipi su Facebook? Ja! Camerieri schnell! Portare lasagna con gazzuola! Combe! Vieni piccolo! Allora lo pichi! Ha un sete italiane! Vieni! Arriva, Chef! Arriva! Occhio! Ma perché non sta attento? Sia tranquillo! Quanta cosa hai combinato a mia lasagna! Scusi, Chef! Ma il mattone era mollo ed è zompato come una palla magica! Guardi! Guarda ma! Tu fate zompare mia lasagna come palla! E io fare zompare tua palla! No, 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 no! No, no, no! Vai! Trai! Tie! Ai, 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 ai! Era un rigore! Altre che per i pomici! Il candalore! Il candalore! Chef, ma non si calciano le pale a uno che lavora! Non è mica un albero di Natale, poverino, eh! Mamma mia! Io odio le pale! Io faccio i fatti! Eh, ce ne siamo accorti, signor Beck, per questo la salutiamo! Io me le tengo strette e che si sono spaventate le mie palle, guarda! Ia, ia, ia! La lasagna che bontà! Ia, ia, ia! E la palla dove sta? Ciao! Ciao, è il speck! Ciao, è il peccato! N2O Un mondo allo stato puro